Amici di Catania Oggi eccoci qui di nuovo per la Web TV. Siamo qui al Teatro del Canovaccio a conclusione di stagione e anche a conclusione di una trilogia molto importante su Nino Martoglio, scritta da Eliana Esposito e tratta dall'autore stesso. Quest'anno affrontiamo lo spettacolo Cuttighi e Cattighi di Martoglio. Il regista Elio Gimbo, allora vogliamo subito sapere in che modo è stata affrontata questa trilogia, in particolare Cuttighi e Cattighi, perché Nino Martoglio? La trilogia è stata sostanzialmente il tentativo di riscoprire le radici culturali del socialismo di Martoglio, aspetto che è stato sempre abbastanza dimenticato, trascurato e ciò nonostante esiste in tutta la sua, come dire, il milie culturale con cui Martoglio si contraddistingue. Ho fatto una trilogia quindi di stampo marxista, come dire, leggendo Martoglio secondo lo schema critico-dialettico della cultura marxista, tutto qua. Tra i protagonisti, diciamo a cast fisso, il protagonista fisso di questa trilogia è sicuramente il personaggio chiave di Nino Martoglio e quindi Don Procopio, interpretato da Cosimo Coltraro. Ora ti dovrei dire qualcosa, no? Bene. Don Procopio, ti avevo già detto, avevamo già parlato, è un personaggio che da primo ho affrontato in maniera, proprio mettendolo lontano, l'ho guardato da lontano, ma solo perché Don Procopio è stato affrontato nella cultura catanese, dalla filodrammatica al professionismo più puro, vedendolo solo ed esclusivamente come Macchetta, come personaggio che usava la lingua e il suo modo di porsi nei confronti degli altri in maniera maccheronica. usava un siciliano e un italiano maccheronico e da qui è venuto poi il fatto che è diventato facilmente e interpretato solo ed esclusivamente da Macchetta. Devo dire che con il lavoro di Elio Gembo siamo andati a fondo dell'animo e della società e del modo di vivere e di pensare di Don Procopio. Questo è stato la cosa bella e difficile e diversa che mi ha fatto entrare dentro il personaggio e con diverso spirito. Devo dire che in tre anni il personaggio non si è mai ripetuto nell'interpretazione, sinceramente, perché ogni anno ho trovato sempre qualcosa per cui questo personaggio crescesse dentro di me. Ora, voglio dire, il fatto che non mi liberi mai della maschera, ecco qua c'è il volto e la maschera, è perché mi sento moltissimo dentro questo personaggio che mi accompagnerà, chissà per quante altre interpretazioni, chissà per quante altri pensieri nella vita normale. Grazie a Cosimo Coltraro. Per il resto nel cast, ma non per il resto, per diminuire assolutamente, c'è la parte forte delle donne e appartiene ad attrici come Yolanda, abbiamo Alice, Perlito, Sabrina Tellico, che sono un po' nascoste, ma in realtà Amalia, Amalia Contarini e poi abbiamo Cinzia Caminiti e la parte maschile, affrontata da Saro, Pizzuto, da Salvo, Musumeci, da Giuseppe, da Pietro e poi abbiamo l'assistenza alla regia che è fatta da Gian Paolo Costantino e da Davide Fascetta. Adesso concludiamo, vogliamo tutti sapere perché venire a vedere Cuttighe e Cattighe di Martoglio, lo chiediamo a Giuseppe. Perché venirla a vedere? Non lo so, io mi auguro che la motivazione sia perché c'è un tentativo, un tentativo interessante di riscoprire dei colori, dei sapori, degli odori che secondo noi un po' si sono persi o comunque sono sempre quasi in secondo piano. A noi invece piaceva tirarli fuori Eliane Esposito che ha scritto questi tre testi, ricordiamo che sono tre testi originali tratti dall'opera Omnia di Martoglio, quindi non solo dal teatro ma da tutto, ogni parola è di Martoglio però presa qua e là. Lì c'era il desiderio di raccontare a modo nostro una Sicilia che ci piace, che ci piace ricordare, che ci piace raccontare. Con questi ragazzi qui si lavora benissimo, quindi si può pensare di affrontare qualunque tipo di... Insomma si può affrontare qualunque cosa. Lo spettacolo è molto divertente secondo noi, è molto divertente, non si smette però mai di pensare. C'è un finale a sorpresa, voglio dire, è più di questo che cosa ci aspettiamo. Grazie, venite a vederci. Allora perché venire a vedere questo spettacolo? Intanto perché è stato fatto seriamente, con un video serio sulla società canese e su Catania, uno spaccato di una città senza tempo in questo spettacolo e quasi senza luogo. Sappiamo noi che è Catania, lo sappiamo noi, solo noi catanesi. Quando sentirete e quando ci vedrete? Io non mi dilungo, dico solo due cose. Venite perché questo spettacolo, oltre che essere divertente, marca l'Ioccio. Cosa importante è che molti sono il venire al teatro e il divertimento, quindi noi ci siamo divertiti a farlo. Voi vi divertirete a vederlo? Perché sarà interessante vedere una ragusana che non sa parlare il catanese e che è contenta di recitare con questa compagnia in questo teatro. E perché oltre al divertimento c'è anche tanta riflessione. Perché è un ostacolo che fa sorridere ma fa anche riflettere. Ed il pugno della guerra è un pugno forte che è stato affrontato in maniera egregia. Secondo me non è stato mai un martoglio così, in questa maniera, a Catania. Infatti un martoglio del genere a Catania non è stato mai fatto. La gente si stupirà perché siamo stati veramente l'unica compagnia per presentare un martoglio così, qua a Catania, in questa particolare maniera. Come? Venite a vederlo. Abbiamo capito che il teatro del Canovaccio è come una famiglia. A questo punto facciamo chiudere con un saluto ad uno dei soci fondatori, Saro Pizzuto. Chi è che ha detto il papà? E cosa devo dirvi? Ringrazio tutti i miei colleghi e compagni di lavoro che sono stati presenti. Ci sono anche altri attori che non hanno preso parte a questo allestimento. Ringrazio tutti e ringrazio in particolar modo, ed è un dovere, ringraziare il pubblico che ci ha seguito. Voglio ricordare che questa è l'ottava stagione del teatro del Canovaccio e come non si poteva concludere al meglio con questo spettacolo. Una cosa che tengo a dire, e lo hanno detto i miei amici, i miei colleghi, questo lavoro di ricerca che è stato fatto nell'anima dell'opera del Martoglio. Qui al teatro del Canovaccio, come ebbi a dire ben 8-9 anni fa, quando abbiamo inaugurato, cerchiamo di fare sempre qualcosa di diverso, ma cerchiamo di andare un po' a fondo. Io condivido in pieno la scelta dell'autrice, la scelta del regista nell'impostazione di questi lavori, perché ritengo che siano dei lavori della massima attualità. Il Don Procopio è sempre esistito, esiste ed esisterà, come gli altri personaggi che gli stanno attorno. Perché sono i personaggi della nostra società, visti in un modo un po' diverso da quelli che sono visti e scorretti. Quindi tutto qui, un abbraccio a tutti, in particolar modo ai miei amici e compagni di lavoro. Grazie. Allora, amici di Catania, oggi venite a vedere Cuttighi e Cattighi di Martoglio, dal 10 al 13 giugno, 15, 16, 17, ore 21, eccezione fatta per la domenica alle 19.